e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e che video signori perché stiamo vedendo un paladino davvero fuori di testa è forse una delle migliori liste che attualmente stanno uscendo è attualmente quella con più win rate per la scalata a legend quindi sembrerebbe il mazzo ideale per poter andare a far legend ed è un paladino che si basa sulla meccanica hand buff ha tante carte con carica il che vi permette di andare a chiudere ma appunto ha talmente tante carte che comunque sono forti e ti permettono di dare un buon buff inoltre a tantissimi peschini che alla fin dei conti carte cheap puoi continuare a giocare però nel frattempo continua a pescare nel frattempo continua a buffare quindi mettere sempre body più grossi l'avversario non riesce a starvi dietro a tutto il valore che andate a creare e una volta che magari è riuscito a stabilizzare un'altra situazione ecco che voi avete delle carte con carica che vanno a chiudere la partita quindi andiamo a vedere esattamente qual è la meccanica hand buff di questo deck beh abbiamo alcune carte che ti permettono di andarla a fare come il ricettatore famigerato che da più uno più uno alla tua mano abbiamo ovviamente poi la arma da quattro virtù del pittore che da più uno più uno a tutti i servitori nella tua mano oltre a queste due carte abbiamo altre carte che comunque permettono di modificare le statistiche come costumista che una volta che voi andrete a buffare andrà a cambiare le statistiche a un vostro servitore e lo stesso vale per il capitano giocattolo tarim che vi permette sempre di andare ad aumentare o diminuire le statistiche di volta in volta per quanto riguarda poi i peschini ecco abbiamo parlato della meccanica hand buff parliamo però anche di tutti i peschini che ha questo deck abbiamo sia il cercatore d'oro due mano uno due che pesca una carta alla fine del turno voi capite che un conto è tra dare un due mano uno due magari un altro conto è tra dare un due mano quattro cinque che risulta essere molto più grosso e molto più difficile abbiamo il tecnico che vi va ad assicurare sempre l'arma e quindi voi sarete sempre contenti l'accolito del dolore che ovviamente anche lui ricevendo dei buff vi andrà a pescare molto di più il pittore di statuette che vi pesca invece sempre un servitore con scudo di vino è un'aura e quindi insomma capite che il deck ha davvero una potenzialità di pescaggio elevatissima tutti questi servitori che vengono buffati ottengono dei vantaggi voi volete sempre avere la mano piena quindi possiamo dire che anche uno scarabeo alla fine dei conti è un servitore che va a pescare perché vi fa rinvenire quindi siete comunque contenti fatto sta che andando a buffare questi servitori poi avete anche le aure che vi permettono di buffarli a loro volta ancora di più quindi aura della legge che dà più 3 attacco abbiamo la spell da 4 ovviamente che dà più 2 e più 1 ai vostri servitori e così via detto questo una volta che comunque l'avversario magari vi sarà riuscito a contestare tutto il vostro handbuff tutti i vostri servitori buffati che avete messo in campo e che comunque sono difficili a tradare come la tigre e come gli altri servitori visti in precedenza ecco che voi potete andare a chiudere con i servitori con carica quali servitori abbiamo? beh abbiamo la taglia gole acqua nera 1 mana 2 1 che carica fino a quando hai un'arma equipaggiata quindi dovete avere ovviamente la virtù del pettore equipaggiata e poi abbiamo per ovvi motivi anche l'eroe jenks che fa un quantitativo di danni incredibili questi servitori con cariche possono fare ulteriori danni grazie a scava fungo che fornisce fuori l'evento e scudivino a un servitore quindi voi capite che potete davvero portare tanti 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 danni all'avversario a chiudere il deck abbiamo anche ziliax in quanto avete visto quanti servitori gioca il mazzo e quanti servitori alla fine chip può giocare il mazzo quindi spesso ogni tiro avrete a bordo con tanti servitori ziliax potrete giocare a turno 4, 5, 6 andare a sdoppiare magari un 10-12 perché è stato iper mega endbuffato diventa ancora più forte ragazzi insomma questa è la lista io spero che sia chiara un po' la spiegazione del deck alla fine è semplice andate a pescare, andate a trovare arma andate a baffare con l'arma andate a giocare servitori sempre più grossi che continuano a pescare fate danni testa, fate danni testa utilizzando le aure, sempre l'endbuff e poi chiudete con gli eroi o con le pirate eccoci, direi che insomma possiamo andare direttamente con qualche game io vi ricordo come sempre mi piace iscrizione e via e quindi andiamo subito con la prima partita di oggi e andiamo ad incontrare un bel paladino fa abbastanza ridere no? in quanto alla fine paladino lo stiamo giocando noi ma va bene così beh la mano non è per niente male abbiamo già l'arma il che ci fa piacere abbiamo un drop a 1 che ci darà direttamente un drop a 2 abbiamo doppia tagliagole che effettivamente potrebbe essere tranquillamente la nostra finisher come ho anticipato nell'intro e va bene così va bene così nessun problema andiamo a scoprire cosa ci darà lo scarabeo per il turno 2 nel frattempo paladino avversario che può essere tranquillamente un deck come il nostro oppure un excavate entrambi due le versioni sono molto forti stanno girando al momento da qui io credo che lo 0-4 sia davvero molto forte perché nel caso in cui l'avversario non potesse andarci a tradare ecco che il totem ci potrebbe dare un vantaggio davvero incredibile nei prossimi turni anche la 2-3 con assalto non era male però sinceramente secondo me lo 0-4 va già bene così l'1-1 non è un problema a questo punto appunto il totem è davvero molto forte non può essere traddato quindi non solo ci andrà a evocare sicuramente una piedina ora ma con tutta probabilità ci andrà ad evocare anche a turno dopo a 3 abbiamo trovato un altro peschino come vi stavo dicendo uno scarabeo che dà valore il 3 mana che vi fa pescare due carte questo deck tende sempre ad avere la mano piena ed è questa forse la vera forza del mazza abbiamo trovato anche l'1-2 che ti dà la seconda arma altro peschino no quindi davvero super solido comunque il 2-3 qui è il nostro turno migliore andiamo a trovare la protettrice e l'aura non troviamo in questo caso quindi la tigre il tigrotto ma va bene così avrei preferito ovviamente il tigrotto ma comunque anche l'1-1-1 con scudo di vino sono date statistiche che si vanno a sommare ci fa doppio trade sul totem che comunque il suo lavoro l'ha fatto troviamo la tigre ora il che ci rende contenti perché la iniziamo ad andare a baffare andiamo a fare doppio trade dal 2-2 vediamo cosa gli esce wow vabbè ragazzi che c'è da dire l'avversario ha la skill ha la skill dei migliori trova l'1-4 che forse è il pezzo più incredibile che poteva andare a trovare forte lui bravo lui null'altro a dire go next no vabbè dai ce lo giochiamo fino alla fine però insomma la skill dell'opponente è davvero elevata credo che forse possa essere il servitore a 2 più forte magari però l'avversario non riesce a sfruttarla al meglio già vedo che fa un trade pessimo qui doveva andare a giocare il 4-6 andare tutto quanto a testa no way che mi vai a traddare lì cercatore d'oro non è male noi abbiamo comunque il tremana che può andare a traddare possiamo andare a togliere lo scuro di vino sul 5-6 andare a giocare il tremana andare a fare coin Laura in questa maniera non solo riusciamo a traddare il 5-6 ma ci andiamo anche a curare di 8 punti vita il che è davvero tantissimo mettiamo teniamo comunque una board che è decisamente buona ovviamente con quel 2-4 lì in campo è totalmente inutile però vabbè vediamo che l'avversario comunque ha avuto la skill per andare a vincere questa partita grazie all'1-4 probabilmente ci riuscirà ma va bene così no vabbè lui sta andando per i di sotterra posso andare a vincere di board lui sta andando per i di sotterra qui è malissimo però sta davvero giocando male probabilmente avrebbe già chiuso la partita se avesse iniziato a andare le teste se mi avesse iperbaffato quel 3-4 a non finire va bene meglio così ci sta lasciando tempo e spazio per poter cambeccare e noi ce la prendiamo volentieri allora questa finestra di possibilità dire che andiamo a traddare il 3-1 in modo da abbassare ancora di più la nostra mano il 4-5 diventa un 7-5 con furto vitale ci va a pescare la seconda arma e qui a noi ci si apre un dilemma enorme vogliamo andare a giocare l'1 mana per andare a traddare il 3-4 stiamo vedendo che l'avversario non lo vuole andare a sfruttare il 3-4 quindi a questo punto io vi dico ma sai possiamo andare a sprecare 4 mana per andarci a settare l'arma in totale chill ci teniamo l'assalto per magari qualcosa di più grosso ci teniamo i servitori migliori per qualcosa di più grosso e quindi va tranquillamente bene così abbiamo anche la spella 5 il che mi tranquillizza tantissimo c'è da dire nel caso in cui lui ora andasse a suormare alla fine la sua finestra di opportunità l'ha già persa giocando decisamente in modo particolare con quell'1-4 che poteva far la differenza va a disotterrare nuovamente non so perché si è messo il pallino in testa di volerli sotterrare così tanto al posto di andare a suormare di più ma va bene per noi spella 5 è pulita in questa situazione è abbastanza pulita anche perché non solo va a rimuovere tutto quanto portiamo davvero tanti danni in testa e soprattutto possiamo andare a giocare sono non è mai dita vero perché sono 9 più altri 9,18,27 siamo 1 off perché ovviamente le piratte ottengono il più 3 attacco dall'aura se le posiziono a sinistra quindi erano 9 più 6 più 3 9 quindi 18 più 6 più 3 9 quindi 27 ed era 28 punti vita erano 18 danni da ora e a 19 quindi sarebbe sempre stato un off va bene così peccato comunque possiamo farla tranquillamente a turno dopo se non dovessimo se non si dovesse andare a curare ma la cura la trova lo stesso va bene il 6,5 che è estremamente fastidioso siamo poco off qui ancora una volta sono 8 più 7,14 7,14 20 20 22 22 sediamo il più 1 più 1 sono 23 24 siamo sempre un off ha dell'incredibile questa storia il 5 mana taric non ci può aiutare in questa situazione no mai nella vita e niente va bene così non possiamo andare a vincere qua quel 6,5 deve comunque essere traddato non gli possiamo permettere troppe cure come non andiamo a traddare quel 6,5 probabilmente con l'1,1 uno scudo divino assalto allora io direi comunque il buff lo andiamo a fare sempre in questa circostanza possiamo fare taric oppure no però taric fa abbastanza schifo taric andiamo a buffare lì per poi andare a trasformare il 6,5 in un 1,1,1 non lo so io credo che vada bene lo stesso andare a mettere un bel po' di board dovevo attaccare prima mi sono un attimo confuso andiamo a faccia lì andiamo a fare value trade andiamo a giocare l'accolito è passato oh l'accolito avevo giocato man quanto è andata veloce la corda alla fine vabbè sono un attimo ingamberato brutto turno potevo sicuramente farlo meglio è perché ho cercato una lite che non potevamo avere ma va bene così l'accolito qui era da giocare anche perché ci avrebbe messo tante statistiche in più quel 1,1 non dovrebbe essere un particolare problema lo va a trasformare in un 6,10 questo sì che è un particolare problema si va a curare nuovamente di 6 e probabilmente riesce da lita anzi sicuramente riesce da lita con scava fungo ci va a fare doppio trade e quel 6,10 è davvero un pezzo enorme l'eroi è un drop che ci fa piacere tale che qui noi lo andiamo a giocare sto solamente pensando dove credo sul 2,2 ci andiamo a prendere l'1,1 a questo punto non è ancora l'ital perché dobbiamo schiantare il 5,9 sull'1,1 e poi sarebbero 8 più 8 16 22 più 24 no non è ancora l'ital purtroppo per noi quindi direi che possiamo andare a schiantare mettere l'1,1 sul 6,10 in modo che non si curi andare a schiantare una pirata sul 6,10 andare ad attaccare di arma è vero che l'altra pirata non potrà andare testa ma non è che possiamo fare molto a questo punto credo che questa sia la giocata più pulita che possiamo andare a fare assolutamente e niente andiamo quindi di sto pensando se andare di doppio pirato o semplicemente una io credo che mettere più statistiche qui vada bene alla fine non ha la removal abbiamo già visto che non ha la removal possiamo portare tutti i danni testa oppure no io penso di sì quello 1,1 non penso che lo possa più buffare in maniera esponenziale il paladino non ci sono più le spell a 10 che danno 4,4 e quindi va bene così prossimo turno con gli eroi dovremmo aver sempre chiuso io non penso che possa più cambeccare da una situazione del genere avversario ma stiamo a vedere non si sa mai il 6,7 trovato di sotterra è abbastanza divertente perché lo fa sopravvivere no oddio non so se lo faccia sopravvivere perché noi abbiamo comunque gli eroi aura è decisamente forte qui si va a refullare completamente opponent però io credo che siano davvero troppi danni sono 8,16 22 27 più gli eroi vabbè gg well played avversario vabbè trovato pure l'assalto va bene è comunque l'ital oddio con scava fungo si di sicuro è l'ital senza scava fungo erano 15 20 26 non sarebbe stato l'ital senza scava fungo aveva dell'assurdo ma va bene così scava fungo ce la dà finalmente l'abbiamo trovato anche noi se avessimo trovato magari qualche turno prima la partita sarebbe già finita da mo ma va bene così insomma ha trovato l'assalto ha trovato il di sotterra che gli andava a baffare la cosa ha trovato l'uno cioè nella scorsa partita c'era no era questa la partita dell'uno 4 non mi ricordo però ha fatto una piuttosto dell'altra per il nostro povero paladino che è incredibilmente forte ma quando l'avversario è così attaccato alla vita ti demorizzi un pochino giochiamo contro star e giochiamo per esattezza contro lock non dovrebbe essere un particolare problema lo possiamo andare a disintegrare facilmente il lock se iniziamo ad imbaffare abbastanza presto buono l'1-2 peccato esserci tenuti l'arma però sapete l'arma è talmente buona che va sempre kippata l'importante è andare a pescare la seconda arma è l'unico l'unica cosa che non andrebbe pescata in maniera tale che almeno l'1-2 prenda un minimo di valore è vero l'altro 1-2 che avremo nel mazzo è completamente sprecato ma l'importante è avere l'arma ma perché è così complicato perché è tutto così complicato Erson ma oggi cosa ti ho perché mi odi così tanto è questa la vera domanda perché Erson mi sta odiando così tanto non lo so non lo sapremo forse mai andiamo comunque a giocare l'1-2 ovviamente quello che mi va pescare l'arma è totalmente inutile quindi cerchiamo di prendere valore da questo 1-2 che magari non può essere tradato in early game da lock che decide di andare a tappare e il questo mi rende super contento possiamo andare anche di 2-3 andare a pescare ulteriori due carte andiamo a pescare un'altra carta dall'1-2 andremo a pescare inizio turno a turno dopo vedete che come avevo detto nell'intro questo deck è incredibilmente solido perché ha un card draw devastante tutto quanto accentuato poi da un hand buff che risulta essere davvero molto opprimente per opponent e quindi iniziamo a pushare questi danni testa iniziamo a hand buffare e qui la partita non dico che sia già chiusa ma per lock tutto questo diventa molto complicato da gestire ma tanto 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 vediamo se però comunque ne riuscirà ad uscire va a tappare va a 10 carte in mano non poteva giocare ovviamente il gigante per la situazione che appunto si era andata a creare nei suoi confronti avendo giocato il luogo a turno d'o prima arpa di vilcorde non dovrebbe nemmeno essere qui un particolare problema noi continuiamo ad andare ad attaccare e direi che possiamo mettere una borde decisamente molto forte abbiamo visto che il warlock non ha modi per andare a rimuovere io vi vorrei ricordare che continuiamo ad andare a buffare l'1-2 è devastante in quanto ci permette comunque di tradare magari un suo gigante magari un pezzo che va a mettere decisamente troppo forte e qui se lui non va a trovare una soluzione dovrebbe essere gg wayplayed e di soluzione 5 mana il lock non ne ha davvero tante so se si trova quella che fa 6 danni a tutti ma anche in quel caso non so se sarebbe un turno buono attenzione coin lock va bene anche se mi evoca un 15-15 noi abbiamo la spell 3 che dà più 3 attacco quindi di sicuro non è un problema abbiamo fatto un altro scacco matto ragazzi ci siamo portati a casa un'altra vittoria questo paladino sta arando tutto e tutti incredibile quanto è forte questo pala vabbè evoca un 4-4 manco un 15-15 fatto sta non cambia nulla in questa situazione poteva anche evocare Gesù Cristo che qui era sempre di ital sì direi proprio di sì andiamo a fare quindi aura andiamo a trattare il 4-4 con il 2-3 in modo da andare a baffare poi con aura l'1-2 possiamo andare a dare appunto scava fungo al 4-2 che diventano 8 danni più altri 4 più altri 4 sono 16 più altri 2 di arma è più che l'ital siamo addirittura 3 over andiamo a chiudere una partita davvero fin troppo semplice per questo paladino contro un lock che purtroppo non ha potuto niente non ha potuto niente e il ragazzo non gioca purtroppo la mia lista e qui si è vista che lock senza mia lista qua davvero molto molto male avversario è molto molto male vi ricordo lock uscito ieri quindi andate a recuperare perché è un grandissimo mazzo e di sicuro può fare molto meglio di quello che ha fatto l'avversario se seguite le mie guide e le mie liste terzo e ultimo game che ci vede giocare contro DK DK avversario ostico potrebbe essere una versione handbuff potrebbe essere una versione rainbow o potrebbe essere una versione DK tradizionale con le piaghe la mano c'è da dire che è super buona no abbiamo il drop a 1 abbiamo il drop 1 2 che ci va a pescare l'arma abbiamo il drop a 3 che ci continua a far pescare carte andremo a giocare a turno 4 l'arma nel frattempo l'arma potrà andare a buffare il 2 mana che continua a buffarci a sua volta la mano e così via insomma fare dei turni davvero devastanti dall'1-1 possiamo prendere l'1-2 con provocazione scudo di vino anche qui solidissimo molto buono molto forte e va bene così vediamo l'avversario cosa risponde con un covoldo non è un particolare problema noi possiamo andare di 1-2 e passare il turno l'avversario ci sta pensando davvero troppo forse a questo turno 3 alla fine decidi di fare questo trade che è un pochino particolare con l'hp mi va a finire il trade nel frattempo quanto è bello disegnare cose in questa nuova mappa è fantastico il 2-3 mi va a pescare sia la tigre sia un'aura del crociato il che mi rende abbastanza contento il nostro piano non cambia turno 4 arma e poi iniziamo ad endbuffare come se non ci fossero domani abbiamo già scritto la parola fine in questo scontro a fondo non cambierà le sorti certo doppia piega del sangue è la cosa che mi dà più fastidio in questa situazione perché con i nostri servitori che poi vanno testa non è l'ideale in quanto si potrà curare ma noi comunque siamo come dei trattori non guardiamo niente nessuno andiamo guardate quanto valore guardate quante carte ma guardate che paladino ma di cosa stiamo parlando che bella questa espansione fantastica stiamo a vedere se di cappa può qualcosa in confronto al nostro valore alla nostra forza alla nostra virtù non mi pare che questo di cappa voglia entrare bene in partita cerca di fare i suoi turni più forti fonte d'acqua male male per ora coboldo ancora peggio vediamo come sarà il di sotterra 2 che decide di non andare a giocare ma decide semplicemente di andare a fare euro power non è un particolare problema perché noi a questo punto possiamo andare ad attaccare nuovamente con la nostra arma e possiamo andare a nebaffare nuovamente con il 2 mana andare a pescare carte potremmo anche andare a utilizzare il coin per andare a giocare il fastidio bot in questa maniera non solo ci andiamo a togliere un pochino di carte dalla mano che inizia a diventare un po' troppe e soprattutto abbiamo ulteriori card draw grazie al 3 mana e compagnia bella è l'1-2 quindi direi che è davvero il turno migliore che possiamo andare a fare inoltre andare a swarmare board ci permetterà di giocare ziliax il prima possibile scava fungo ottima carta per andare a chiudere questo game grazie agli eroi possiamo andare a traddare l'1-1 io credo in questa maniera almeno ci preserviamo lo scudo divino del fastidio bot andiamo a baffare tutto quanto andiamo a giocare 4-5 andiamo a fare il coin andiamo a giocare il secondo 4-5 che appunto ora ha lo scudo divino preservato e siamo contenti così l'avversario è contento di questa piaga del sangue ci ha messo due piaghe ne abbiamo già trovata una bravo l'avversario continua la nostra sfortuna di questo paladino che però è talmente forte talmente solido che sai che ti dico mettimi 100 piaghe che le posso pescare tutte quante intanto io mi curo quanto voglio e non mi batteresti nemmeno se ci provi ma nemmeno se ci provi mi puoi battere nemmeno credo che se ora facessi turno 6 passo turno 7 passo se fossi tossico lo farei anche vincerei comunque questo game ma non vogliamo farlo siamo qui per fare una guida quindi cerchiamo di essere più seri possibili e vediamo il da farsi mi va a togliere lo scudo divino con l'euro power turno estremamente passivo qui dell'avversario va a trovare un'altra piaga wow due piaghe due trovate assurdo potremmo dire quanti danni sono qua 4 8 12 14 gli eroi non possiamo utilizzare ovviamente per ovvi motivi la scava fungo su di lui quindi a questo punto direi che possiamo andare a giocare ziliax intanto non possiamo essere puniti da dk con questa board doppio 8 10 non è punibile il coin non ce l'ha per poter andare a giocare il titano e comunque il titano ci mangerebbe semplicemente un 8 10 e stop lì non ha delle master removal non può giocare a resca con crollo è forte l'hai trovata bravissimo ma non basta e infatti va qui a concedere la partita ragazzi che c'è da dire questo paladino è completamente fuori di testa come uno di voi mi aveva scritto è insane e lo è davvero tanto un pala che forte convince sorprende e possiamo dire go next andiamo al prossimo video io vi ricordo come sempre un mi piace e un iscrizione che per me è davvero importante e noi quindi ci vediamo domani sempre con una nuova videoguida ciao ciao